Guardare Maria Maria, abbracciata la croce e quindi sotto la croce, come abbiamo detto, ci insegna non solo a sentirla vicina ai nostri dolori, ma ci insegna a vivere il dolore. E Maria ci insegna a viverlo spiritualmente, con la luce del Vangelo, ma anche umanamente. Perché se Gesù non si è sottratto al dolore umano, è perché il dolore umano fa parte della natura dell'uomo. La capacità dell'uomo di saperlo vivere e la capacità del cristiano di viverlo in Cristo e per Cristo, questo è o sono i valori aggiunti, potremmo dire. Questo è ciò che ci fa fare del dolore uno strumento di crescita umana, di maturità umana, uno strumento di apertura all'amore e quindi anche uno strumento di santificazione. La sofferenza è qualcosa di inevitabile quando viene, se da un lato non ce la dobbiamo cercare, dall'altro lato per primo o poi bussa la porta della nostra vita. E la sofferenza ha un grande significato. La sofferenza mi fa comprendere che io sono una creatura, sono fragile, ho i miei limiti, che io non sono un padre eterno, ho di più del padre eterno come qualcuno si illude di essere. Quindi la sofferenza fa parte del mistero della vita. E nessuno di noi può fermarla, nessuno di noi può cambiarla. Certo ci sono delle sofferenze che possiamo fermare, come tante malattie che sono state sconfitte dal progresso, dalla scienza, e questo è un bene. E questo fa parte appunto del nostro essere creature. Questo progresso, questa potenza della scienza che ci viene da Dio, non è però onnipotenza. Non è onnipotenza, perché ancora oggi, ahimè, ci sono tante malattie che non si riescono a sconfiggere. Oppure come fai se io non voglio vingere una sofferenza spirituale? Anche molte volte le malattie psichiatriche, bene, le medicine non sempre risolvono i problemi, sono importanti, vanno prese, ma una persona deve vivere con quella sofferenza. Quindi la sofferenza è inevitabile. Poi noi, guardando a Maria, dobbiamo imparare anche ad evitare le sofferenze inutili. Quali sono le sofferenze inutili? Guardate, ci sono sofferenze soprattutto spirituali, ma anche fisiche, che noi ci procuriamo e quindi sono inutili. Per esempio, le sofferenze che noi ci produciamo interiormente quando siamo invidiosi, siamo gelosi, quando odiamo, quando siamo rancorosi. Chi è invidioso o geloso? Chi porta rancore? Lui soffre per primo. Ci sono sofferenze inutili che derivano, per esempio, dagli attaccamenti a cose, al potere, ai soldi, e ci fanno star male. Ci sono sofferenze fisiche che, per esempio, noi ci procuriamo attraverso un cattivo stile di vita, una cattiva alimentazione, eccetera, eccetera. Ma Maria, quindi, ci insegna ad accogliere la sofferenza che è inevitabile, ma anche ad evitare le sofferenze inutili. E poi, mi piace chiudere con questo pensiero. Maria ci riporta allo scandalo della croce, perché la croce è uno scandalo, ma è in quello scandalo che c'è la nostra salvezza. È in quello scandalo che c'è anche la nostra grandezza, ma c'è anche la grandezza di un Dio che condivide con me la sofferenza e il dolore, che condivide con l'umanità i suoi limiti. E questo è bello, sapere che Dio è sempre dalla nostra parte. Noi ci vediamo domani. Parli più a TV, dritto al cuore. Grazie a tutti.